Bella a tutti ragazzi, io sono ErciBall e benvenuti nel quinto vlog del canale! No, non sono morto, probabilmente alcuni di voi l'avranno anche pensato perché ormai sono circa più di tre settimane che sono assente da youtube Però non sono morto, sono ancora qui vivo e vegito che faccio video per voi Sono solo stato in vacanza per un po' di tempo e l'ho scritto anche nelle informazioni del canale Ho scritto che per due settimane circa sarei stato in vacanza, non avrei fatto video causa ferie Però, raga, purtroppo le vacanze sono durate un po' di più Anche perché io sono andato, tra virgolette, sì in vacanze ma ora non vi sto a spiegare tutti i miei problemi della vita personale Però vi dico solo che comunque sono dovuto andare a trovare mio nonno che purtroppo non stava molto bene E mio nonno purtroppo non abita dietro l'angolo ma abita a ben 720 km da dove abito io Io abito a Roma, lui abita in Puglia, nel Salento Comunque vabbè, non stiamo a soffermarci su queste cose L'importante è che sono tornato e che adesso comincio a fare video a go go ragazzi Sono un po' stanco, devo ammetterlo, dopo queste ferie, tra virgolette Perché non sono state proprio ferie, visto che insomma sono stato anche un po' con mio nonno Ma adesso passiamo alle novità del canale ragazzi Che incredibilmente sembra che mi hanno contattato per farmi una richiesta di partnership E adesso ho già compilato il modulo insomma E sto aspettando che mi mandano un'email di conferma Se alcuni di voi sono curiosi e vogliono sapere con quale network insomma ho deciso di affiliarmi All'inizio ero convinto di entrare a far parte del network di RPM con Social Blade Social Blade penso la conosciate tutti C'è anche il sito in cui puoi vedere le statistiche del tuo canale Di qualsiasi canale E insomma ero più propenso ad andare verso quel network insomma Perché col fatto che comunque ti offre quel servizio ottimo Che devo dire che è veramente ottimo Ho pensato di unirmi a loro Però poi ci sono stati vari problemi di copyright ragazzi Ho un paio di video che non è che hanno degli strike Però sono stati riconosciuti dei contenuti di terze parti all'interno di quei video E con Social Blade non c'era proprio nessun verso Nessuno eh Ma nessuno proprio neanche un piccolo No proprio non c'è verso Di prendere la partnership anche se hai questi insomma video con dei contenuti di diverse parti Mentre con TGN Sembra che mettendoli privati per un certo periodo E poi ripubblicarli Puoi aggirare insomma questo sistema Ed è quello che farò io Quindi quasi sicuro diventerò partner con il network di TGN Poi vabbè forse in futuro lo cambierò Però regà Comunque per il momento mi accontento di questo E che dire regà Siamo arrivati a 900 iscritti Siete dei grandi regà Siete proprio dei grandi Io nelle informazioni del canale avevo scritto Regà sto assente per 2-3 settimane Mi raccomando Noiafamo arriva a 900 iscritti Sì addirittura siamo a 910 iscritti Regà siete dei grandi Mi raccomando continuate così che a 1000 iscritti Ci starà un contest da paura Da paura Quindi niente regà continuiamo così E cresciamo sempre di più Continuate a essere dei grandi Niente regà io detto questo Mi rimetto Mi metto subito a lavorare A creare qualche video per voi Perché 3 settimane senza video Sono parecchio frustranti Sia per me sia per voi E io pensate quando sono tornato Neanche sapevo più come si impugnava il mouse Regà perché Comunque dove sono stato io Non c'era internet Non c'era il computer Poi io ho il computer fisso Quindi non è che me lo posso portare dietro Che è un portatile Quindi Niente mi devo un attimino Riorganizzare tutto quanto Quindi anche se sono tornato Per il momento Adesso mi metto a lavorare su qualche video Vi dico anche quale Sto a lavorare sul video di Outlast Outlast regà Sulla compilation di Outlast Quindi ci sarà da ride Raccoglierò tutti i momenti più divertenti di Outlast Poi vabbè L'avevo già detto in un altro video Li raccoglierò tutti E li metterò in un unico video In cui avrete un'idea di quanto so cacassotto io a sti giochi E niente comunque Questo è quanto Regà l'iscrizione al canale è sempre ben accettata E noi siamo e becchiamo al prossimo vlog Bella Ciao